Ciao bestia, benvenuto in questo nuovo video! Ok, ditemi qua sotto nei commenti se avete capito l'agitazione. Allora, il video di oggi sarà un video di allenamento, come vi ho portato anche un mesetto fa, adesso non ricordo bene. Sarà un allenamento un po' diverso da quello che avete visto appunto la volta scorsa, perché gli esercizi saranno un po' cambiare, ovviamente, perché cambia il giorno, ragazzi. E no, volevo dire che, appunto, vedrete che esercizi vado a fare. Vi ho avverto già una cosa, se... Ok, ora direi che è il caso di partire col workout. Vai! Ok, ora direi che è il caso di partire col workout. Ok, ora direi che è il caso di partire col workout. Ok, ora direi che è il caso di partire col workout. Ok, ora direi che è il caso di partire col workout. Ok, ora direi che è il caso di partire. Ok, ora direi che è il caso di partire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.